Prendiamo di cominciare vi dico questo, domenica 7 ottobre sarò in diretta dalle 14 alle 18 sempre qui sul canale del Emilio Gamer Signore e benvenuti a un nuovo video, io sono Emilio e oggi finalmente siamo ritornati su Limbo che è da una vita e mezzo che devo portarvi con sto Limbo e raga spero proprio di arrivarci in fondo e niente vi lascio il gameplay, è un po' meno parlato perché raga questo gioco bisognerebbe portarlo in live, in diretta e invece c'è così devo fare i taglioni e facendo i tagli non si capisce niente quindi ho cercato di mettere più pezzi, più pezzi possibili però in molte zone stavo zitto quindi vabbè vi lascio il gameplay Perché devo farle così enigmosi sti giochi Che cazzo di culo raga Ma tantissimo Mi schiaccia, mi schiaccia, mi schiaccia Che brutta morte Ok Allora, un po' che non si vede niente Che gioco della passera Oh, no, no che brutto gioco che brutto gioco la fatica vai corri mi ammazzo mi ammazzo e invece ho fallito come un miserabile ho fallito troppo di logica sto gioco raga troppo che confuzione non so come non chiedetemelo non so come non so non ho idea non ci credo ma siamo seri c'è prima un altro da prendere raga ok molto bene che botta dano dopo 300 anni adesso devi andare su con quante ne hai e ritorniamo qua che ho indovinato un po' adesso dovrei avere anche l'altra cassa molto bene ok 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 invece questa va bene qua YOLO 10p10 al miglio va bene ragazzi concludo con questo video spero ovviamente che vi sia piaciuto io vi ricordo di nuovo che domenica 7 ottobre sarò qui in diretta sul canale di Emilio Gamer dalle 14 alle 18 signori ci vediamo alla prossima ciao